Non beve, non ha espletato bisogni fisiologici e la sua salute mentale è perfetta. Sta sconcertando tutto il mondo, Pralad Yanni, un religioso di 82 anni, che vive in una grotta e che ha smesso di nutrirsi, dice, da quando ne aveva otto e venne benedetto da Amba, una divinità hindù. La maggioranza delle persone riesce a vivere senza cibo per alcune settimane, ma senza acqua si vive per soli tre o quattro giorni, spiegano i medici, che hanno analizzato il suo sangue e il suo cervello, uguale, dicono, a quello di un giovane di 25 anni, e che lo stanno sottoponendo ad ogni tipo di esame. Niente, il suo corpo è perfettamente sano. Pralad Yanni aspetta, dormendo o seduto sul suo lettino, meditando.